La verità delle vostre tesi Una figlia migliore di te Vuoi farmi da genitore adesso? Chi è che mi vorrebbe nella propria vita? Non sei in contatto con la mamma? In realtà mi parla soltanto di te Perché? Perché è l'unica cosa di cui mi importa Perché sei ingrassato tanto? Ho perso una persona a cui tenevo molto e questo mi ha segnato Non la vedi da quando aveva otto anni? E ora vuoi ricucire il rapporto? Mi dispiace No, non sono d'accordo Non è una buona idea Mi dispiace Se provi a dire mi dispiace un'altra volta Ti infilzo con un coltello, lo giuro su Dio Fa pure, che vuoi che succeda? Comunque non riusciresti a raggiungere gli organi Perché all'improvviso hai bisogno di vederla? Perché adesso? Liz Ho paura che abbia dimenticato che è una persona meravigliosa Io me ne devo andare Devo avere la certezza che potrà avere una vita decente Fatta di persone a cui tiene E che starà bene Devo sapere di aver fatto almeno una cosa giusta nella mia vita E che starà bene E che starà bene Grazie a tutti Grazie a tutti